Allora, Renato è partito dopo vari tentativi, ora sta cominciando a piovere di nuovo per la quarta volta, però piovigina eh, niente di che. Condizioni adesso sono buone, il vento è sufficiente per partire in decollo, purtroppo ci abbiamo davanti e di fianco un temporale, per cui bisogna capire cosa succede nei prossimi minuti. Adesso è buono per partire qua, a parte qualche goccia di pioggia, faccio vedere un po' la situazione vento e la situazione nubi, tanto per far capire la situazione. Quello lì mi sa che è per scendere, no no, mi ha partita la chiamata a me. Sì perché quando se le chiuso, si fa questo.